Contropiede, 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 buona, buona! Rete, 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 palo interno! Rete, rete! No, no, oh, oh, non l'ha dato! Niente. Scusa, ma l'ha sbattuto il palo interno? No, l'ha ficcato il fuorigioco. Ma che cazzo del fuorigioco? Era buono, è partito bene, eh! Era proprio... Eh, proprio... Il passaggio calibrato non era in fuorigioco. Lo rivedete stasera, quest'azione. Un gol bellissimo, annullato, anzi no, ha ficcato prima l'arbitro. Ma non era fuorigioco. Assolutamente no, non era fuorigioco. Lo rivediamo stasera, appena lo sviluppo. Sto video è, diciamo, la nostra. Non c'era perché è partito da dietro. Sono partiti due giocatori, la palla è andata a quello più dietro. No. Grazie a tutti.